Salve a tutti ragazzi e ragazzi e benvenuti in questa nuova recensione Oggi sono qua a parlare di un cult diventato quasi istantaneo quando uscì nel lontano 2010 Ovvero Machete, vabbè qua abbiamo il cofanetto ma qua usciamo il primo Blu-ray Con Danny Trejo e prende alla regia Robert Rodriguez, completamente fuori di testa Io Robert Rodriguez l'ho sempre apprezzato di tutti i film che ha fatto, c'era una volta in Messico Se non mi sembra c'era Johnny Depp? Se non mi dico un minchiato penso di sì Sì? E c'era anche Banderas, ha iniziato con quei film indipendenti Sapete un po' la storia, chi non la sapesse, lui ha iniziato a fare film Amava fare i film e per arrivare a una somma di denaro Ha fatto le cose più assurde, ci provava medicinali, veniva pagato per provare in medicina in testate Questo ci veniva puripurito nei coglioni Per l'amore del Cina, perché non aveva, era una grande famiglia, abbastanza povera Mi sono 20 fratelli, 18, non mi ricordo, e l'hanno aiutato per fare il suo progetto E ora è arrivato, è diventato un registro ormai affermato Ancora do vedermi quel film lì prodotto dal James Cameron, me lo devo recuperare Ma siamo qua oggi a parlare di Macete Per tanta gente è un film trash, cazzone, rincoglionito, splatteroso ed inutile Ma non è così completamente Ciao messaggio, ed è bello chiaro per tutto il film Non è che viene dimenticato andando avanti Allora, per niente come sapete ormai è successo Cioè per niente ormai questo film ha preceduto 10 anni prima quello che sarebbe accaduto quando sarebbe salito Trump Ovvero di mettere il confine tra Texas e il Messico Per non far passare i messicani nel Texas o fare questo cazzo di muro Da qui praticamente Macete viene chiamato Viene assoldato per 150.000 dollari per ammazzare questo qua che vuole salire E fare fare questo muro elettrificato per bloccare tutti i messicani Se ne va in giro pure di notte a fare i video a ammazzare i messicani Come se fosse niente di che Perché lui tranquillamente se ne va in giro a ammazzare sta gente E niente Viene assoldato perché lui pure Macete diciamo è messicano Giustamente neanche lui ci ha permessi per stare lì Dov'è? E accetta questo Però viene incastrato perché veramente vogliono far capire che il senatore è stato sparato da un messicano Invece no C'è un altro scettino dall'altra parte che spara il senatore e poi cercano di ammazzare Macete e catturarlo Macete veramente lui dal nome stesso capirete che armi non ne usa Lui usa le sue mani e il cazzo di Macete Gli effetti visivi e speciali sono stati curati da Tom Savini Lo so tanta gente può essere che non sanno chi cazzo è Tom Savini Tom Savini è uno che ha fatto effetti speciali bestiali negli anni 80 Soprattutto nella saga di Venerdì 13 E anche qua c'è pure una bella parte C'è lui fa uno dei cattivi che deve ammazzare Macete Veramente è bravo Tom Savini è anche simpaticissimo Se vedete le interviste è un pacioccoso Veramente è incredibile Quindi abbiamo anche tanti altri grandi attori Ci abbiamo Danny Trejo come vi ho detto Steven Seagal, Michelle Rodriguez Jessica Alba, Robert De Niro Manco ce l'hanno messo anche in copertina E manco dietro Cazzo se ne ricordo più come si chiama Io ragazzi me ne dimentico sempre questa attrice Quella che ha fatto in Maggiolino Io l'ho apprezzata solo per quella e poi per altri film Quella che è l'attrice che era rossa Poi si è fatta bionda Poi si fa bruna Non si sa che cazzo vuole fare Non è che si tiene quei capelli che c'ha Come sapete l'essere umano C'ha un colore e vuole fare un altro colore Non mi ricordo Lin Siloan ecco porca puttana Che è qua rincoglionita completamente E poi gli fanno fare la parte di una tossica Cioè già lei c'ha avuto i suoi problemi Perché gli deve fare pure i problemi che lei c'ha E' una tossica Quindi Venente tante scene splatterose e violente Figurate che l'ha visto pure mia mamma Mi mamma non ci resta conto di quello che succede Dicevo E' un po' violento mi ha detto Ma perché questo sangue Simon Seagal Completamente lui Sempre fermo Circondato di donne Anche lui nemico di macete Che lui all'inizio del film ci ammazza Sia la moglie sia la figlia Prende Gli distrugge la vita Macete E qui inizieranno Le varie critiche sociali Su questo fatto Diciamo Del permesso di soggiorno Il fatto di prendere la cittadinanza Lì in Texas Vediamo che anche Essendo Robert Rodriguez Anche lui No Se non mi sbaglio Anche lui messicano Se non dico cazzate Fa capire che non è perché So tutti insieme C'è un amore Che li unisce tutti No Ci sta una parte Di questo Lava piatti Messicano Che vede le telegiornali Che devono fare in muro No E butteranno fuori tutti quelli Che non hanno il permesso Per stare nel Texas Dice Eh ma lo chiudessero Che cazzo se ne frega Tanto io ci sono Cioè questa è la mentalità L'importante Che sto bene io Ma non mi interessa Come stanno gli altri Stessa cosa Ma in tanti amicizie mie Sono delle merde schifose Ovvero che Perché sto bene io La mia famiglia sta bene Me ne fotto Di altri Capito Questa è la mentalità Che ci seguirà per sempre E anche Penso il karma Il punirà Sta gente Che si comporta in questa maniera Penso in culo Ce l'avranno un giorno Tutte queste cattiverie Non è anche a dare una mano Dici cazzo Quello lei E anche lui Sangue Cioè la Siamo la stessa Provenienza Siamo messicani Entrami Ci aiutiamo A dice No Me ne fotto il cazzo Perché tanto io il permesso Il suo giorno ce l'ho Ce l'ho i permessi Per stare qua in America Chi se ne frega Capite Questo è il ragionamento In generale Perché poi uno pensa Di cena Ma qua in Italia In tutto il mondo Ragazzi C'è la mentalità così Se sto bene Io tu devi andare A fare in culo Punto Questa è la mentalità Di adesso E quindi Siccome Roberto Rodriguez Ha sofferto La fame Ha visto Cosa significa La povertà Morire di fame E andare Come mi disse Un amico di merda Mi disse Tu Sopravvivi Io vivo Tu vai a Carponi Io no E questo è Perché quando uno ha assaggiato La povertà Apprezza anche le piccole cose E anche si mette nei panni Di chi ha sofferto E soffre Capite Questo è il messaggio del film Non è solo Ah macete Usa le budella Per buttarsi Dalla finestra E passare Da un altro piano Ah macete Si scopa Tutte quante Cadono Nei piedi Di macete Perdonatemi Si è scaricata la batteria Come sempre Quando io giro Rompe sempre i coglioni Quindi Questo è il messaggio Che anche Vuole dare Roberto Rodriguez Nel senso Uniamoci Stiamo uniti Questa ce la facciamo Superiamo questo momento Cioè per questo C'è anche Jessica Alba Che crea Diciamo Questa milizia Questa resistenza Di unirsi Crea anche Questo personaggio Fantomatico Che è lei stessa Che diventa Simbolo Della rivoluzione E che Toglie Qualsiasi torto E unisce Perché alla fine Di tutto Il fatto è che Noi alla fine O siamo messicano O so italiano O so spagnolo O quel cazzo che Ricordatevi Siamo esseri umani Questa è la cosa Che ci dovrebbe Unire tutti E ora direte Ah Ivor ci fai Il pippone No non sono io A fare il pippone Su tiktok Per prendere Quattro cuoricini E E visualizzazione No sono sinceramente Questa è la cosa Vi dovete Ricordare E cercare anche Di aiutare Perché se un giorno Avete bisogno Voi Quella persona Non la volete Non è Non è Non gli avete Dato una mano In quel momento Brutto Vi manderà A cagare E godrà anche Della vostra sofferenza Questo è Quindi cerchiamo Di aiutarci A vicenda Se c'è uno Alla persona Che ha la possibilità Di aiutare Aiutate E' gratis Cioè è gratis Nel senso Avrà un costo Non so Può essere Di soldi Può essere anche Non per forza Di uscire di soldi Ma anche un aiuto Ma anche morale Questo sto dicendo Quindi io vi consiglio Anderò a vedere Macete Guardatelo con un occhio Non solo per divertimento Ma anche Per ragionare Il messaggio Che ci vuole dare Robert Rodriguez Perché viene sempre Sottovalutato Soltanto per il coglione Che fa gli effetti Cioè fa soltanto i film Splatterose e trash E surreali E fuori Le righe Sopra le righe Quindi Io vi ringrazio Fatemi sapere un po' Voi Qual è il vostro film Preferito Di Robert Rodriguez Tranquillo arriverà All'altra volta All'alba Di Robert Rodriguez Molto presto Arriveranno Appena si può Ci vedremo Questi tre film Se andrà Tutto bene Detto questo Io vi saluto Vi ringrazio E ci vediamo Ho una prossima Recensione Sperando Che Se è sempre un bel film Penso che mi sparerò Ma c'è The Kills Penso Non lo so Ma non subito Fatemi sapere la vostra Se l'avete visto Se non l'avete visto E se vi è piaciuto Che passeranno anni Sono passati 12 anni Di sto film Sono successe Di tutti i colori Detto questo Ci vediamo Alla prossima recensione Se vi vai Iscrivete al canale Qua sotto Lo darò con un visualista Se volete darmi una mano Ovvero Una lista di film Che vorrei recensire Ma se Voi Di buon cuore Io vi ringrazio Se me lo volete regalare Mi arriveranno a casa E avrete precedenza Su tutto Ovvero Appena arrivano Farò la recensione Immediatamente Ovvero Li vedrò E farò la recensione E vi ringrazierò Anche in video Ringrazio tutti Quelli che lo faranno Detto questo Ci vediamo A una prossima recensione Ciao a tutti